Ciao, in questo video vediamo come avviare per la prima volta Minecraft Education Edition, la versione riservata alle scuole. Una versione Minecraft che è a tutti gli effetti una versione Bedrock, cioè quelle che vengono usate per console, smartphone o computer Windows 10. Solo che questa versione ha dei blocchi in più, ed è quella meno costosa in assoluto. Ha inoltre una serie di policy di sicurezza per creare una sorta di recinto virtuale intorno al perimetro della scuola e della tua abitazione. Se sei interessato, segui allora la mia pagina Facebook, quella di Maker Camp, i cui link li trovi in descrizione, perché lì comunichiamo i contest a cui partecipano le scuole ed a cui diamo gratuitamente queste licenze. Se sei invece un educatore o un insegnante che non è riuscito ad iscriversi a questi concorsi, allora sempre in descrizione ti metto un link che ti può essere utile per acquistarlo in autonomia per le tue esigenze. Ora procediamo nel primo avvio di Minecraft Education Edition e segui fino alla fine il video perché ti mostrerò un'opzione molto particolare che probabilmente ti tornerà molto utile. Ora la sigla del canale. Ciao sono Marco Vigelini e se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina. In questo modo non perderai i miei prossimi video. Avviamo ora per la prima volta Minecraft Education Edition. Nel video precedente abbiamo completato l'installazione di Minecraft Education Edition. Ora dobbiamo avviarlo. Se ti sei perso questo video, clicca nella scheda che ti sta comparendo adesso. Per il primo avvio dobbiamo cliccare il pulsante di start e digitare education. Come vedi compare la corrispondenza migliore come Minecraft Education Edition e io ci clicco semplicemente sopra. Questa è la schermata che vi appare in cui dovete inserire la vostra utenza. Nel caso in cui stiate partecipando ai contest da me avviati, proprio quelli che vi abbiamo spedito per email. Ma prima di inserirli vi invito a fare una cosa che vi torna molto utile. Con il tasto destro del mouse andate nell'icona qui in basso, tasto destro e cliccate aggiungi alla barra delle applicazioni. In questo modo eviterete la seconda volta che dovete avviare Minecraft Education Edition di andarla a cercare dal pulsante start. Andrete a cliccare semplicemente questa icona. Ora io inserisco il mio account, voi dovete inserire il vostro. Premi avanti quando hai inserito completamente il tuo account. Ora è il momento di inserire la password. Clicca sul pulsante accedi ed ecco la prima schermata di Minecraft Education Edition sul vostro computer. Per chiudere Minecraft il tasto ESC e selezionate OK oppure la X qui in alto e selezionate nuovamente OK. Poiché abbiamo messo la nostra icona in basso sulla barra delle applicazioni, noi ci clicchiamo e avviamo Minecraft Education Edition per la seconda volta. Nuovamente utenze e password. Che noia! Ora vi faccio vedere un trucchetto che vi può tornare utile se pensate di avere lo stesso accesso con lo stesso computer. Inserisco adesso forse per l'ultima volta utenze e password. E nella schermata iniziale clicco su impostazioni. Vado sul profilo e avvirito l'accesso unico. Torno indietro nella schermata iniziale, chiudo e riavvio Minecraft. Vediamo insieme quello che succede. Ho cliccato su Minecraft e vedete che io non ho inserito la mia utenza e la password. E credo che questo suggerimento ti farà risparmiare tanto tempo. Ciao e al prossimo video! Grazie! Grazie! Grazie!